65esima edizione della lugo san marino ben ritrovati appassionati di ciclismo in questa classica emiliano romagnola riservata ai ciclisti dei 15 e 16 anni di età per la categoria allievi vediamo con le inquadrature le prime luci dell'alba con una leggera nebbia che va appunto a mascherare la grande pianura ravennate che i ragazzi dovranno affrontare mentre tutte le operazioni preliminari di rito vedono i concorrenti prossimi allo start 149 concorrenti anche le ragazze abbiamo visto appunto eleonora ciabocco del team di federico con sala pepoli romagnola eleonora ciabocco campionessa d'italia e qui le prime i primi colpi di pedale per il tratto di trasferimento si utilizza tutto il trasferimento possibile per la categoria 5 chilometri per la manifestazione che in italia è la più lunga dell'anno per la categoria allievi dicevamo eleonora ciabocco anche presente in gruppo quindi le quote rosa del pedale che sono presenti per ecco lei che ha ben 5 titoli italiani quindi un passaggio appunto anche in questa classica poi l'anno prossimo passerà eleonora ciabocco professionista per il team internazionale del world tour dsm ed eccoci appunto con il via dato dal direzione di corsa subito scatti e contro scatti e allora i 100 chilometri da affrontare sono 88 di pianura con ravenna ovviamente protagonista della partenza si attraverserà la provincia di cesena e poi per entrando in quella di rimini infine la serenissima repubblica di san marino dove lì ai corridori attende la l'asperità del monte titano che appunto solitamente ecco lei che accende il fuoco le polveri il primo tentativo che si va a registrare quindi del numero dorsale 46 il porta colori della ceretolese 1969 armin caselli però vediamo dietro la situazione in gruppo con simone melfi il velocista del pedale azzurro rinascita di ravenna queste sono le sue strade e infatti l'abbiamo visto alla caccia di armin caselli il bolognese della ceretolese e dopo esserlo andato a riprendere parte in contropiede proprio simone melfi testa della corsa quindi quando siamo entrati nella provincia di forlice sena simone melfi già tre affermazioni quest'anno pluri vincitore l'anno prossimo appunto gareggerà nella categoria juniores con la sidermac fratelli vitali dicevamo una manifestazione con 65 anni di storia e un albo d'oro nobile appunto proprio per questa gara mentre intanto con simone melfi siamo al passaggio in località sant'angelo di gatteo grandi nomi appunto che sono presenti in questo albo d'oro partiamo ovviamente scorgendolo dal fondo troviamo troviamo nomi importanti come i romagnoli alfio vandi e con i colui che appunto ha militato anche nella polisportiva femmicinese parliamo di savini ma poi grandi nomi come moreno moser che troviamo nel 2005 per quanto riguarda poi lorenzo fortunato nel 2012 nicola conci nel 2013 questi due ultimi ragazzi nell'ordine appunto li troviamo nel world tour e poi l'ultima edizione è stata vinta da samuele privitera che oggi milita invece con i colori nel tra gli juniores del team fratelli giorgi quindi il gruppo adesso è inquadrato dalle nostre telecamere vediamo appunto le schermaglie che continuano a susseguirsi tenendo sempre in considerazione che davanti c'è simone melfi del pedale azzurro rinascita di ravenna il vantaggio che si testa sui 35 secondi e qui appunto stiamo per entrare nella provincia di rimini coda del gruppo appunto con questa bella soggettiva dei 150 atleti praticamente che lo compongono del lungo serpentone multicolore e vediamo la situazione adesso che cambia al comando insieme a simone melfi è rientrato il portacolori della della formazione della nuova c della monte corona quindi con il numero dorsale 122 si tratta di marco pellegrini praticamente c'è tutto lo stivale rappresentato quest'oggi con bene dieci regioni presenti e vediamo dietro altri quattro atleti che stanno stanno rientrando quando siamo in località di ponte verucchio e a brevissimo appunto le la salita con san marino ovviamente che attende il protagonista sarà con lei che andrà a scandire il ritmo delle prossime pedalate allora troviamo quindi del velo club bassano c'è fabio dal molin numero 77 c'è nicolò jacchi il toscano del team franco ballerini mattia persiani il marchigiano del pedale rosso blu picceno marco pellegrini l'abbiamo visto della unione sportiva monte corona insieme a simone melfi al comando raggiunti anche da francesco onofri della polisportiva fiumicinese fight adriatica gruppo che attualmente viaggia ancora con una ventina di secondi di svantaggio stanno per essere appunto messi nuovamente nella morsa coloro che sono i fuggitivi mentre ne approfitta in questa fase mattia persiani del pedale rosso blu picceno mentre qui inquadrato francesco onofri fisico esile da scalatore che attualmente appunto si trova in seconda posizione però dietro il gruppo principale quello che ne è praticamente del gruppo lo vediamo che è allungato praticamente nelle prime posizioni c'è matteo gabbelloni che quest'anno appunto ha deciso di dedicarsi più alla strada terza posizione per il team mente e corpo vediamo ancora le formazioni quelle dell'unione del cerettolese 1969 ci sono gli atleti del monte corona oggi allo start presente enrico simoni anche figlio di gilberto simoni e c'è anche santiago basso figlio d'arte di ivan basso per quindi due figli d'arte dei due famosissimi e accesissimi loro i loro duelli tre professionisti nei primi anni 2000 di ivan e di gilberto simoni come tutti voi bene ricorderete sono lì in gruppo attenzione perché adesso ora dall'avanguardia gruppo esce la sagoma di mark lorenzo fin numero dorsale 125 che va a superare mattia persiani del pedale rosso blu piceno vediamo appunto dietro nessuno adesso gli si è messo alla sua scia poi vediamo appunto che persiani viene raggiunto anche da leonardo consolidani del team del team coratti questa appunto situazione in evoluzione quando siamo lungo i nove chilometri della salita di san marino con appunto mark lorenzo fin che si intravede in fondo al telebiottivo sono 100 metri di distanza ancora per leonardo consolidani del team laziale coratti vediamo ancora pedalata molto molto fluida per per lui con mark lorenzo fin che quest'anno ha già ottenuto ben cinque affermazioni un palmarès importante per il ragazzo in maglia della nuova ciclistica arma e taggia testa della corsa quindi quando siamo in località borgo maggiore e praticamente agli ultimi tre chilometri dal termine mark lorenzo fin nato a genova il 12 dicembre 2006 abita ad avenio e corre per quindi questo team ligure due chilometri alla conclusione per quel loro che se lo stanno domandando mark nome che appunto deriva dalle origini del padre origini inglesi per questo per il padre appunto di questo ragazzo che come vedete adesso sta dando grande spettacolo sulla salita che porta all'antica città di san marino 30 secondi ancora radio informazione comunica con la nostra moto di ripresa che continua a riprendere queste fasi con le viste invece sulla superstrada vediamo ciò che avviene nelle posizioni di rincalzo con tanti gruppetti che si sono andati a separare ulteriormente nel nelle fasi di svolgimento di questa salita che dura nove chilometri e quindi non ci si può nascondere attenzione perché in seconda posizione quindi abbiamo visto il passaggio di leonardo con solidani ultimo chilometro invece per mark lorenzo fin che è ancora continua a mantenere una ventina di secondi di svantaggio contro leonardo con solidani che non si è arreso continua sempre di passo regolare il portacolori del team corati vediamo invece che cosa avviene nella terza e quarta posizione con ene al sambinello il primo romagnolo appunto della polisportiva filmicinese fight con jacopo pignatti ci sono cardelli gabelloni enrico simoni del monte corona con fabio segatta appunto nelle prime dieci posizioni ma le telecamere fisse sono quelle di porta san francesco l'arrivo è trionfale per il ligore della nuova ciclistica armataggia mark lorenzo fin con quindi la prima posizione per colui che si ispira alle gesta di garen thomas seconda posizione per leonardo con solidani team corati che applaude appunto è soddisfatto anche lui della propria prova attendiamo quindi di andare a delineare quello che è il podio terza posizione per il romagnolo della fiumicinese fight atriatica e nea san vinello jacopo pignatti quarto con l'apocardelli che quinto dell'unione ciclistica impolese gabelloni mente corpo con enrico simoni in settima piazza con fabio segatta e mattia persiani del pedale rosso blu piceno chiude la top ten cristian sanfilippo della cicli fiori in cycling team dell'onardo metalli è tutto sentiamo le voci dei protagonisti chiusura alla grande di una grande stagione sì sì questa ci tenevo tanto da già dall'anno scorso era una gara bellissima tutta in linea l'unica dell'anno e vincere bellissimo ai piedi della salita sei partito li hai staccati tutti sì ho ha fatto un lavoro ma viato marcia proprio ha fatto un lavoro magnifico io ho arrolando il mio compagno di squadra i primi tre chilometri perché eravamo in 200 quindi non puoi partire subito però poi sì sono partito grazie al suo magnifico lavoro e anche di lorenzo calamai la sua squadra ha scremato prima poi tu sei andato via da solo si siamo fatto un lavoro bellissimo e poi ho dovuto solo finire bella sta corsa ti piace sì sì è la più bella dell'anno è un percorso duro nella parte finale è bellissimo sapevo che lorenzo è ovviamente molto molto forte in salita purtroppo ho perso l'attimo buono per stare dietro ho dato tutto ma oggi aveva quella marcia in più che sarebbe vincere le gare hai creduto fino alla fine a un certo punto lui ha cambiato marcia però non mollavi ma sì sicuramente sapevo che una sedia che mi saddiceva ho provato a dar tutto fino alla fine sperando che prima o poi mollasse ma ci ne aveva di più come sempre succede entrati in territorio san marinese la corsa è esplosa raccontaci le ultime fasi si è praticamente era una fuga abbastanza numerosa in pienura e quando la salita si è messo a fare il ritmo un compagno del vincitore dopo di che nel secondo pezzo di salita fino allungato ho provato a tenere il ritmo ma ho visto che non ce la facevo quindi mi sono spostato sotto sul mio ritmo e sono arrivato per giocare nel terzo posto si è giocata bene fino alla fine comunque si si sono abbastanza soddisfatto perché è più di così non non sarei riuscito a dare quindi bene così si chiude con una grande classe con un'ottima stagione si sia una stagione assolutamente soddisfacente che come ripeto non mi sarei aspettato quindi sono molto soddisfatto si pensa agli anni prossimi